Il comprensorio è 140 km di pista con 38 impianti di risalita e 42.000 persone l'ora va portata oraria, quindi il terzo comprensorio d'Italia e la nostra forza è la viabilità e l'ubigazione vicino a 3-4 grandi città del centro come Roma, Napoli, Bari, l'Abruzzo stesso e le Marche che sono proprio diecente.